Questo è Jesse Mack, ex poliziotto della squadra motociclisti. Perito in missione e stato reintegrato in un altro reparto, ma in realtà il governo l'ha scelto per una missione segretissima. Guidare il palco solitario. Solo l'agente federale Norman Datton conosce la identità del palco e l'incredibile canta scientifica potenza della sua morte. E l'incredibile canta scientifica potenza della sua morte. E l'incredibile canta scientifica potenza della sua morte Raggiungi i 480 km di orari e hai incorporate armi in altissima precisione. Raggiungi i 480 km di Lotto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.